È un'idea nata circa due anni fa venendo incontro alle esigenze dei residenti ma anche degli acquirenti di quella zona che per andare a acquistare al mercato Vascone nonché per andare al cimitero monumentale avevano delle grosse difficoltà nel parcheggiare in quanto la viabilità della via Catania e della via San Cosimo è abbastanza cotica. Dall'altro lato un parcheggio, lo Zaera Sud sotto la Villa Dante costato 6 milioni di euro alla comunità messinese praticamente inutilizzato da diversi anni per cui l'idea per risolvere entrambe le situazioni è quella di istituire un bus navetta che faccia sì che gli utenti lasciano la propria autovettura all'interno del parcheggio e il bus porti gli utenti davanti al primo ingresso del cimitero monumentale, davanti all'ingresso del mercato Vascone salga dalla via San Cosimo per servire i due ingressi lateri del cimitero e chiudendo ad anelle il percorso lungo la via Palmara torni nuovamente al parcheggio. Questo consentirà sicuramente un deflusso delle autovetture molto più rapide e snello, meno macchine in circolazione e soprattutto per la popolazione più anziana anche un servizio egevole. Il parcheggio rischia di continuare a rimanere vuoto, il servizio rischia di non essere utile se poi gli automobilisti continueranno a parcheggiare anche in doppia fila sulla via Catania all'ingresso del Vascone, quindi da un lato questa possibilità, dall'altro bisognerà poi intensificare la presenza almeno nei primi tempi della Polizia Municipale. Certamente non è solo un provvedimento viabile che fa sì che il progetto abbia buona riuscita, ovviamente serve un presidio dei vigili urbani per i primi periodi davanti al mercato Vascone che eviti la doppia e la tripla fila, serve una campagna anche di comunicazione da parte del Comune di Messina e di ATM a incentivare appunto il cittadino a utilizzare il meno possibile l'autovettura e utilizzare i mezzi pubblici, in questo caso parliamo di bussa navetta totalmente elettrici. Sta cambiando quella zona, c'è un parcheggio, San Cosimo, ecco, quello potrebbe anche servire in qualche modo a gestionare il traffico? Siamo in un periodo di rivoluzione sicuramente viabile per la città di Messina, lo stiamo vedendo sul Via d'Europa con i parcheggi di interscambio, lo vediamo anche con questo nuovo nascituro parcheggio a San Cosimo. Nelle More il parcheggio Zera Sud esiste già, questa soluzione non solo è low cost ma addirittura permetterebbe di fare cassa al Comune di Messina e ovviamente tutti questi progetti e tutte queste idee vanno inglobate a 360 gradi cercando di capire quale dovrà essere un domani la viabilità dell'intera città di Messina. Grazie. 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 Grazie.